Prima di iniziare ragazzi vi volevo come sempre ricordare di passare da ulticoinbank.com Di utilizzare come discount code come codice 1 il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto Link in descrizione Chiudiamo gli occhi e abbassiamo lo sguardo Non ci vedo Abbiamo trovato messi in live streaming Abbiamo trovato messi in live streaming In un live streaming Dai questo mi sarà anche il bonus appena finito la roccia mi sei disfruttato Dai Dai Mi lo stasì Dai lo stasì Troviamo Tony Troviamo Tony Tony più stoti Sì Finalmente Me lo sentivo Odorcianara Me lo sentivo Ce l'abbiamo fatta Oddio Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Ti è piant' Tornato in ABC Quanto non mi stai resistendo Ragazzi Io stavo studiando Io stavo studiando Devo andare Devo andare Mi sto 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 PlayStation Oddio! Oddio! L'abbiamo trovato! Vado a rinunciare a non crederci più! Dopo più di 30 minuti di bacchetti aperti Lo troviamo! Il fenomeno! Il fenomeno Joe Hart! Non ci posso credere! Oddio! Oddio! Chi sta lavorando? Chi sta lavorando? Non ci credo! Non ci credo! Chi sta lavorando in un bacchetto? Oddio! Damiano ti risponde... Andiamo così! Facciamo un po' gli indiani! Non possiamo urlare! E l'abbiamo trovato! Sì! E andiamo! E andiamo! E andiamo così! Due in tre bacchetti! Adesso che cazzo c'è da dire? Oddio! Porca zocco! No! No! Cosa sta diventando? Cosa sta diventando questo... Oddio! Oddio! Tre! Siamo a tre! Potevano farlo anche Toast Bernate? Doi! Saltiamo! No! Ragazzi mi sa che la tecnica del salting non funziona più... Non ci credo! 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 Troviamo addirittura i Toast doppioni! E siamo a quattro! E siamo a quattro! Madonna! No ragazzi quanto mi dispiace che mia mamma stia dormendo! Fatemi andare un attimo in bagno che mi sistemo! E riniziamo col pacco opening che dobbiamo arrivare minimo a 5! Anzi facciamo così questo pacco opening... Questo pacchetto lo apro e io me ne ho! Via via! Scappa scappa scappa! Scappa scappa scappa! Non guardiamo! Cosa? 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 E siamo a 5! Herman! 98 di velocità! E troviamo anche lui! Gerardo Bale! Gerardo Pallone! Buonissimo così! Termine! Poi salutiamo! È la prima streaming di F... Di XFS di... E lo troviamo! Woohoo! L'abbiamo chiesto! L'abbiamo trovato! Il primo team of the season in the bank! Nuri! Oh 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 oh! E trovano anche il secondo! Secondo team of the season ragazzi! Puntiamo ai 5! E andiamo così! Non so come sia possibile! Abbiamo trovato un toss della... Primera Liga! Pensavo ci fosse solo Italia e... Liga francese! Ma ragazzi! A quanto siamo? Dico 4 perché... Prima ho detto 3 e abbiamo trovato il terzo ragazzi! Volei trovare! E fu così! Che andarono a 4! E magari... Se tu... E è fu così! Che andarono a 5! Ma aspettavo! Un team of the season migliore! Ma ragazzi! Devo essere sincero! Apritele adesso i pacchetti! Perché veramente! Stiamo trovando l'ira di Dio! Ragazzi! Ragazzi! L'abbiamo chiamato! Il pacchetto dopo! Troviamo solo lui! Se tua moglie torna tardi! Se la bomba Mauro e Carbi! Dai 1! 7! 7! Sì! Lo troviamo! Oddio! Oddio! Uniforme team of the season! Nello stesso pacchetto! Non era mai successo! E andiamo così! A 7! Team of the season trovati! E anzi! Oh mio Dio! E vanno a 8! Pastore! Pastore! E vanno così! Ad 8! Lo chiudo perché ce l'ho già chiuso in mele! Li troviamo! Oh! Porca Toroi! Oddio! Oddio! Già una scelta! Già una scelta! Mamma mia! Mamma mia ragazzi! Non trovo su di sempre! Troviamo già così! Ma l'ultimo pacchetto! Oh mio Dio! Non ci fido! Non trovo niente! Nei pacchetti! Questo ovviamente! Oddio! Una leggenda! Oddio! Oddio! Cine band! È la cammina leggenda! E partis! E andiamo a trovare le leggende a settembre! Un anno dopo l'uscita del gioco! Noi trovi alle leggende! Speriamo! Un blu! Un blu! Un blu! Un blu! Manzuki! 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 Yes! Manzuki! Manzuki! Yes! Manzuki! Yes! Yes!